Buonasera a tutti, grazie innanzitutto per essere venuti tutti così numerosi. Il senso della serata è l'amicizia. Qui, questo villaggio meraviglioso, un villaggio speciale di Tarsito, è una location che ben si presta a questo tipo di eventi performativi nei quali non solo possiamo ammirare le opere ma anche poi ammireremo le performance e ce ne sono una serie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.